Fratelli d'Italia, l'analisi del voto dopo i ballottaggi, continua a rivendicare il buon risultato del partito, ma di tutto il centrodestra in generale. Con Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia in conferenza stampa, il capogruppo di Fratelli d'Italia in regione Guerino Testa, il sindaco dell'Aquila per Luigi Biondi, Antonio Tavani del coordinamento provinciale a Chieti, eletto sindaco di Fara San Martino e altri rappresentanti del partito della Meloni. Sicuramente c'è un risultato importante da parte di Fratelli d'Italia che diventa il primo partito a Roseto, Francavilla e Vasto, il primo partito del centrodestra e in termini assoluti il partito più votato del centrodestra in tutto Abruzzo. C'è un risultato per il centrodestra che è sicuramente migliore rispetto a quelle che erano le aspettative. Si votava in cinque comuni molto difficili per il centrodestra, dove il centrosinistra si sapeva che comunque era molto radicato. E rispetto ai toni trionfali dell'inizio della campagna elettorale, dove il centrosinistra doveva vincere 5 a 0, fare il cosiddetto cappotto, così lo definivano, c'è stato invece un risultato migliore rispetto a quelle che sono state le aspettative. Fratelli d'Italia ha avuto ieri un incontro con Lega e Forza Italia per analizzare il voto. Ovviamente dove si è perso ci saranno delle analisi più dettagliate, ma ad ogni modo il centrodestra è più unito che mai, dicono. Testa ha ricordato che la loro organizzazione partitica è precisa. Ricordo agli amici del PD ha detto che Marsilio come presidente in due anni ha risolto tante problematiche, che il voto alle amministrative non è collegato all'attività regionale. Testa ha pur aggiunto che nel Pescarese il PD è uscito con le ossa rotte. È stata poi la volta anche del sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi. Fratelli d'Italia in provincia può contare sul sostegno convinto di almeno 20 sindaci, con tante adesioni, con una diffusione costante del partito, segno del lavoro che facciamo, ha concluso. Fratelli d'Italia ha pure spiegato che il risultato è frutto del buon governo della regione, affermazione in netto contrasto con quelle del PD, appunto, come si diceva, che parlano di un risultato da leggere come bocciatura del governo Marsilio. E se andiamo a vedere tutte le competizioni amministrative che si sono svolte dopo il voto delle regionali, beh, circa 100.000 cittadini hanno votato per il centrodestra e 78.000 per il centrosinistra, che vuol dire che il 56% ha scelto il centrodestra e il 43% il centrosinistra. Quindi il centrosinistra continua a rimanere minoranza in questa regione.